Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va fra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non furon cose create se non etterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza a voi chi intrate. Ora inizia il nostro viaggio. Vi accompagnerò, come dice la scritta sulla porta dell'inferno, nella città dolente, nell'eterno dolore, fra i dannati. È la giustizia divina per coloro che hanno perso il ben dell'intelletto, cioè non hanno usato la ragione, la vera ragione, nelle loro scelte. Sono turbato, molto turbato, perché la scritta è chiara, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Non c'è più possibilità di rimediare, di redenzione, non c'è più un futuro. Varcata questa porta, inizia l'eternità, un'eternità fatta di dolore. Ma ciò che mi solleva sono state, poco prima, le parole di Vergilio, la mia guida. È un viaggio che Dio stesso ha voluto per l'intercessione di Beatrice, di Santa Lucia e della Santissima Vergine. Non sarò lasciato in eterno in questo luogo. Il mio cammino dovrà consistere nella presa di coscienza dei miei peccati. E poi riuscirò a rimirare le stelle.